Giuseppe Bergesio è l'amministratore delegato di Irene Energia. Cosa può fare Irene Energia per sensibilizzare il territorio più periferico della metropoli torinese sull'uso della banda larga? Questo atto che firmiamo è molto importante perché costituisce un ulteriore passo verso la centralizzazione delle zone più periferiche, ma è una centralizzazione digitale. Io sostengo che l'infrastrutturazione digitale permette alle zone non esattamente centrali come nella città di essere connesse in modo digitale. Questo è uno strumento per evitare l'ulteriore periferizzazione. È importante perché permette a chi lavora, ma anche sia nel settore del turismo che nel settore del mondo dell'industria, di essere al centro pur rimanendo nelle bellissime valle montane.